Musica Buongiorno, bentrovati appuntamento di mercoledì 19 dicembre 2018 con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, siamo al centro, partiamo dall'edizione di Pescara per vedere i titoli in prima pagina. Si parla di tasse, tasse arretrate, vedete la pagina, rate fino a 6 anni, Pescara in arrivo, agevolazioni per le famiglie che non hanno pagato i tributi comunali. Vediamo in alto l'ampia pagina politica, Abruzzo verso il voto, regionali a maggio, la norma poi ritirata, getta il Senato nel caos. E intanto il ormai candidato, manca solo l'ufficialità per il centro-sinistra, candidato presidente Giovanni Legnini, l'ex vicepresidente del CSM, scrive ai sindaci, progettiamo insieme e ci sarà sabato questo incontro. E poi Abruzzo, scuole sicure, finanziamenti a 17 istituti della nostra regione. Vediamo anche a centro pagina la foto che riguarda il tradizionale appuntamento del Babbo Natale Carabiniere all'ospedale di Pescara, Babbo Natale Carabiniere che porta i doni ai bimbi ricoverati. Questa iniziativa organizzata dall'adricesta di Carla Panzino. Poi vedremo anche un servizio, vediamo nelle cronache Pescara regolamento dei vigili urbani bocciato da 80 agenti. E poi un autovelox nella galleria di San Silvestro dopo i ripetuti incidenti, l'ultimo in ordine di tempo domenica scorsa. E poi Brioni, il marchio dell'alta moda di penne, torna in passerella a Milano. Vediamo anche un'altra notizia che arriva da sportore, a scuola arriva il pulsante antibullo all'istituto Alighieri. Un apparecchio consentirà alle vittime di chiedere aiuto. E poi lo sport, una brutta notizia per gli amanti del calcio di una volta, perché dopo tantissimi anni con un provvedimento nella manovra economica, ci sarà l'addio al vecchio Totocalcio, alla vecchia schedina. Lo storico concorso del Totogol saranno sostituiti da altri concorsi. Vediamo la prossima pagina del centro, che è quella dell'edizione di Chieti, Lanciano Vasto. Il titolo di apertura riguarda la cronaca in coma dopo bastonate e pugni, San Salvo, grave elettrauto ferito in una lite davanti ad un bar e caccia all'aggressore. Vediamo poi la fotonotizia che riguarda l'avvertenza di San Martino sulla Marrucina per l'azienda Boll. Oggi incontro decisivo, due aziende del territorio pronte a rilevare il sito. Vediamo poi di spalla le notizie. Chieti, niente concorso, fu segnalato con l'Ascish, questo giovane escluso dal concorso per entrare nella guardia di finanza. E poi Chieti, ancora comune, premi di 200 mila euro per i dipendenti, questo è l'altro titolo. Vediamo poi in basso, ci spostiamo a Francavilla al mare, troppi incidenti, lo abbiamo visto anche dalla prima pagina dell'edizione di Pescara del centro, troppi incidenti, autovelox nella galleria San Silvestro della variante 714 che collega Montesilvano a Francavilla. Vediamo anche in basso, esplode Micetta, ferito un professore ad un occhio, San Salvo, studente sospeso per un mese, la preside, comportamento inammissibile. Vediamo la prossima prima pagina del centro che è quella dell'edizione di Teramo. Parliamo di università, tre nuovi corsi di laurea all'università di Teramo. Il rettore Mastrocola annuncia anche un maggiore legame con la città aprutina. E poi ancora Teramo, flash mob di mille bambini per gli auguri alla città, gli alunni delle elementari. In piazza li vedete con il cappello da Babbo Natale. A Giulianova via il processo per la coltellata nella scuola, questo è il titolo che arriva proprio da Giulianova. Vediamo poi in basso, Teramo, la pinatocoteca civica riapre dopo due anni e poi Tortoreto, tutto il paese aspetta il rientro di Cavatassi che è stato graziato, era stato condannato in Thailandia alla pena di morte. E poi è arrivata questa notizia che tutti aspettavano con Cavatassi che per Natale, per i prossimi giorni, farà rientro a Tortoreto. Ci sarà sicuramente una grande festa per il suo ritorno nel nostro paese. Vediamo anche in basso, sotto la foto di centropagina, la ASLA annulla il concorso da primario. La decisione dopo l'apertura dell'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Teramo. Ci spostiamo alla pagina del centro che riguarda l'Aquila, Vezzano e Sulmona. Teleni annuncia 120 assunzioni. L'Aquila, l'azienda di dati, vuole insediarsi nell'area dell'ex edimo di Poggio Picenze. E poi ancora vediamo più in basso la fotonotizia di centropagina. Centro e frazioni, strade paralizzate dal ghiaccio all'Aquila dopo la nevicata. Problemi per le basse temperature che hanno causato proprio problemi di ghiaccio. Ancora l'Aquila, Gran Sasso, l'appello per gli impianti. E poi ci spostiamo nella Marsica a Celano. Ladri visitano tre abitazioni. Torna l'allarme. Andiamo in Valle Peligna, a Pratola Peligna per la precisione. Si dà fuoco e vola dal tetto. Aveva 61 anni questa tragedia accaduta a Pratola Peligna. Da Roma 40 mila tonnellate di rifiuti saranno smaltite ad Aielli incontro alla regione sul Mona, fuori dall'Accordo. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Lavoro gelata di fine anno. Vedete questo il titolo di apertura che riguarda l'occupazione. Spariti in regione 26 mila posti. Il tasso di disoccupazione rimbalza il 12%. Colpita soprattutto l'industria. L'economista Pino Mauro dice peggio della media nazionale. Poi vedremo anche un servizio, perché si è parlato di questo in un incontro organizzato dalla CISL a Pescara. Vediamo altre notizie. Dramma in mare. Operaio muore mentre si trova sulla piattaforma. È successo a largo di Giulianova. E poi vediamo più in basso G-AX concerto a rischio sfratto. Il concerto di Capodanno che potrebbe essere spostato da Piazza della Rinascita alle aree di risulta. Sempre a Pescara, proprio per problemi di sicurezza e anche di spazio. Pena di morte. Denis Assolto, ora l'abbraccio di mia figlia. La Bruzzese scarcerato. Problemi però per il ritorno dalla Thailandia. Vediamo anche l'articolo, il pezzo di prima pagina. Comuni colpiti dal terremoto, azione collettiva davanti al TAR. Vediamo anche in alto qualche altro richiamo degli argomenti che poi ritroveremo all'interno del giornale. Roccaraso apre la stazione di Pizzalto. Da oggi inizia la stagione sciistica, dunque nel comprensorio dell'Alto Sangro. Poi Tagliacozzo, dopo 18 anni, in effunzione gli impianti di campo rotondo. Dunque si tornerà a sciare anche nella Marsica. E poi lo sport, in questo caso parliamo del Pescara. Il patron Sebastiani, piano B per vincere i match dopo la sconfitta di Verona. E' tornato a parlare il presidente che è rimasto sicuramente deluso dal comportamento della squadra e chiede al tecnico di cambiare qualcosa, soprattutto a centrocampo. Pescara, che vi ricordo, osserverà il turno di riposo il 22 dicembre. Tornerà in campo il 27 dicembre per la penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B. Quando all'Adriatico arriverà il Venezia, gara che si giocherà alle 19. Ma continuiamo a vedere le prime pagine. Siamo a quella del quotidiano La Città Abruzzo al voto il 10 febbraio. Quella di ieri è stata una giornata particolare perché c'è stato un balletto 5 stelle in Parlamento presentato e ritirato emendamento sull'Election Day. E poi vediamo anche altre notizie. Roseto degli Abruzzi ripartono i lavori alla villa comunale. E poi Casa dello Studente erogati 3 milioni per avviare l'iter progetto al sicuro. E poi restiamo a parlare di università con il rettore dell'Università di Teramo Mastrocola che prepara la svolta tra i nuovi corsi di inglese e dipartimenti al posto delle facoltà. E poi ancora Tortoreto prepara la festa prenatalizia per Denis Cavatassi. E poi Silvi una bomba ecologica all'ex pollaio, lo dice l'opposizione in comune a Silvi. Vediamo anche una notizia di Sport che riguarda la Serie C. Battaglia federale sulla Lega Pro che resterà con 4 promosse e 8 retrocesse. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere invece le prime pagine dei giornali nazionali. Oggi in edicola partiamo dal Corriere della Sera. Si parla ovviamente sempre della trattativa tra Unione Europea e Governo per la manovra economica. E sembra che sia stato faticosamente raggiunto un accordo. Vedete il titolo del Corriere intesa con l'Europa sulla manovra. Manovra, Conte telefona al Falco, Dobrovoskis, la trattativa si sblocca. L'Ite con Tria sull'annuncio, 2 miliardi in più dalle privatizzazioni, triplicati gli interessi per chi non paga le tasse nei termini. Vediamo anche un altro titolo che riguarda il Corriere della Sera, Fake News di Mosca, anche su Instagram. Condizionamenti prima e dopo il voto negli Stati Uniti. Vediamo anche Repubblica, Manovra, stesso titolo del Corriere della Sera. C'è l'intesa a Bruxelles, ecobonus e fisco si cambia così. E poi una notizia che riguarda l'anno nero della stampa nel mondo ucciso in carcere, i giornalisti nel mirino. Vediamo anche il prossimo giornale che è il Fatto Cotidiano. L'Apocalisse è rimandata, niente sanzioni dell'Unione Europea. Grazie ai gilet gialli, scrive il Fatto Cotidiano. E poi il tesoro, decreto top secret, Marenzi, parlò all'ingegnere. Il giornale fisco ancora più ladro, arriva la mazzata, triplica il tasso di interesse su multe e cartelle esattoriali. Vediamo anche la prossima pagina, quella nazionale del messaggero. Manovra, c'è l'intesa con l'Unione Europea, annuncio di tria, ma conto è ancora cauto. Aspettiamo oggi il via libera della Commissione. Intanto protesta davanti al Senato, ma la riforma decongestiona il centro, stretta sugli NCC, bruciate bandiere del Movimento 5 Stelle. Vediamo anche il prossimo giornale che è libero. Il clan dei furbetti in grassa, Di Maio taglia gli sprechi altrui e poi spende 85 milioni per sé, scrive libero. Vediamo anche il quotidiano La Verità. Bergoglio assume un mago in Vaticano, questo è il titolo di apertura. Comunicazione affidata al giornalista Tornielli, che con lo pseudonimo di Torborn vende online giochi di prestigio e ha sparato a palle incatenate, questo è il titolo un po' forte, della verità contro Monsignor Viganò, che accusava il Papa. Questo è il titolo del quotidiano La Verità. Vediamo anche il mattino, manovra, accordo con l'Unione Europea, pensioni alte, tagli fino al 30%. E poi abbiamo visto sul centro questa notizia, che ritroviamo anche in questo caso sul mattino, lo stop al totocalcio, dire addio alla schedina e al soglio del 13. se ne va quello che è stato il sogno di tutti gli italiani, fare 13 al totocalcio, totocalcio che non ci sarà più, cambieranno i concorsi, ce ne saranno altri. In manifesto Pinocchio abita a Palazzo Chigi, scrive il quotidiano in manifesto, fact checking sui tagli all'editoria. E poi vedete l'accordo al collo, al termine di una giornata tesissima, il Ministero dell'Economia annuncia, c'è l'intesa con Bruxelles sulla manovra, il sole 24 ore, ovviamente il titolo principale riguarda proprio questo argomento, manovra, c'è l'accordo con Bruxelles. Vedremo oggi come reagiranno i mercati a questa notizia, manovra vicina, l'intesa con l'Unione Europea, più cauto il quotidiano torinese e la stampa. A Bruxelles la lettera di Conte, oggi la Commissione decide, ma come sembra ormai certo, ci sarà la fumata bianca. Il tempo, stangate pure tipo il 500, l'ecotassa sull'auto risparmia solo le picche utilitarie, ma rilancia il diesel proibito dalla Sindaca. Raggi, vediamo il secolo.it, l'esercito a Roma, ma solo per tappare le buche, la soluzione trovata dai 5 Stelle per rimediare all'incapacità del Comune, Meloni, Raggi e una calamita per Roma. E i Romani, ha detto la Presidente di Fratelli d'Italia, il secolo XIX, il quotidiano di Genova, si parla del nuovo ponte, Piano, il mio ponte è una ripartenza, sicuro, semplice, bello come Genova, l'intervista con l'architetto Renzo Piano, che supervisionerà la ricostruzione del ponte Morandi. Siamo all'avvenire, accordo con l'Unione Europea, Conte e Juncker convergono sul deficit in manovra, al 2,04%. Oggi ci sarà il Via Libera. E poi, vedete in alto, il messaggio del Papa, di Papa Bergoglio, la buona politica per una vera pace. Il Papa dice, seguiamo le beatitudini dell'impegno, no ai discorsi che accusano i migranti di tutti i mali. Lasciamo avvenire, questo era l'ultimo quotidiano della rassegna nazionale, torniamo ai quotidiani abruzzesi, ripartiamo dal centro per parlare di politica, quella di ieri è stata una giornata importante, con questo decreto presentato in Senato e poi ritirato per l'accorpamento delle elezioni, e dunque l'Election Day, ma andiamo per ordine, Abruzzo verso il voto, Legnini scrive ai sindaci, progettiamo insieme, dopo l'appello dei 162 primi cittadini, per la sua candidatura alla presidenza della Regione, l'ex vicepresidente del CSM, chiama tutti sabato a Pescara per un confronto sul programma politico. E vedete poi, ecco le priorità dei piccoli comuni, Cannavici di Campotosto e Mostacci di Colarmeria, ricostruzione e infrastrutture, queste le priorità dei piccoli centri. Voto regionale a maggio, lo dicevamo prima, in Senato scoppia il caos ed è polemica, fibrillazione per l'emendamento della maggioranza che faceva slittare le elezioni, Bella Chioma, il coordinatore regionale della Lega, dice è stato solo un errore, al quale i 5 Stelle hanno già rimediato. E poi vedete ancora 5 Stelle, Marcozzi, la casta, in difesa dei vitalizi, questa è la denuncia del candidato, presidente in Abruzzo del Movimento 5 Stelle, e in basso parliamo invece del centro-destra, perché Fratelli d'Italia critica la Lega, i ritardi ci penalizzano, dopo l'apertura di Berlusconi sulla candidatura di Marsilio è slittato ancora il vertice del centro-destra e dunque slitta ancora l'ufficializzazione del candidato presidente, proprio del centro-destra, alle prossime regionali. Siamo ancora alle pagine di cronaca regionale, sicurezza, edifici a prova di incendio, fondi a 17 scuole abruzzesi, nel piano triennale della regione, si aggiungono alle 21 già finanziate a novembre. E poi intanto Masterplan, la regione stanzia 9 milioni di euro per difendere il suolo. In basso, giapponesi in Abruzzo, allezioni di protezione civile, dopo Fukushima e Kinamoto, ci sarà proprio questa presenza di tecnici e ingegneri giapponesi del sollevante, proprio nella nostra regione. Andiamo a vedere la pagina che riguarda il lavoro difficile, l'occupazione nella nostra regione. Abruzzo, i disoccupati salgono a 67 mila, l'allarme della CISL regionale, in dieci anni sono raddoppiati, l'85% delle nuove assunzioni e con contratto a termine. Dunque numeri non proprio positivi per l'occupazione nella nostra regione. Se ne è parlato ieri un incontro organizzato a Pescara dalla CISL. Possiamo andare a vedere il servizio di Ludovica Pelliccioni. Sono stati registrati segnali preoccupanti di rallentamento per l'economia abruzzese e conseguente crollo dell'occupazione. A cosa è dovuta questa situazione? C'è questa caduta molto forte, anche sorprendente, perché è inaspettata del mercato del lavoro e credo che le cause siano essenzialmente tre. La prima causa è da attribuire a situazione di stagnazione dell'economia nazionale che ovviamente ha riflessi anche su quella abruzzese. Il secondo motivo sono le turbulenze internazionali che si stanno registrando, con particolare riferimento ai problemi della Brexit e del comportamento protezionistico che di qua aleggia di volta in volta. E infine c'è anche un problema di rinnovo dei contratti a tempo determinato che probabilmente una volta stipulati non sono stati confermati in virtù di questo clima di incertezza che esiste oggi a livello nazionale e internazionale. La piccola impresa ha bisogno di azioni molto più forti, soprattutto di tutoraggio e di crescita in termini di innovazione e ricerca che non riesce a fare da sola. Per fare questo ha bisogno di qualcosa in più che la politica deve continuare a dare proprio in termini di nuovi bandi e nuove infrastrutturazioni per quanto riguarda la competitività del territorio. Andiamo avanti, parliamo sempre di economia di lavoro. Masterplan e ZES, zone economiche speciali, strumenti per ripartire, Malandra, lo abbiamo ascoltato appena adesso. Chiederemo a tutte le forze politiche, dice il segretario regionale della CISL, come intendono sostenere lo sviluppo del territorio. Turismo nautico, mancano gli under 35, il 70% di chi va in barca a più di 65 anni. Convention di asso nautica a Pescara. Serve un rilancio. Andiamo avanti, siamo alle cronache dalle province. Tributi locali, nuove regole, tasse arretrate, 6 anni di rate per pagare. Il Comune introduce agevolazioni per le famiglie con difficoltà economiche. Poi il bando, vedete, di spalla, il voucher alle donne che assistono. Bambini e anziani. Vediamo la prossima pagina, sempre dalla cronaca di Pescara del centro, Polizia Municipale, il documento, regolamento vigile, 80 agenti lo bocciano. E poi una notizia che arriva da Montesilvano, la squadra cinofili della questura di Pescara avrà una nuova sede nell'ex comando della forestale. Ieri l'accordo con il Comune di Montesilvano, ancora Pescara, il centro, cittadino soffoca di smog, via le auto nei weekend. Andiamo a vedere anche il prossimo titolo, in basso, si parla di poveri, perché sono sempre in aumento e la Caritas chiede aiuto alla città. Don Marco Pagnello, direttore della Caritas, accoglieteli in casa per i pranzi delle feste, dice il direttore della Caritas Diocesana. Andiamo a vedere la prossima pagina. Ecco il pulsante antibullo per chiedere aiuto a scuola. La colonnina costata 5.000 euro sarà posizionata nell'Istituto Dante Alighieri di Spoltore. Vediamo anche più a centro pagina, in un manuale pericoli della rete, gli esperti della Polizia e del Corecom a confronto con i ragazzi del Dascanio. e all'Istituto Acerbo di Pescara è stata presentata una carta dei valori dello sport integrato. Vediamo la prossima pagina, pagina 29, l'evento in ospedale di ieri, tradizionale come ogni Natale, arriva il Babbo Natale dei Carabinieri che fa festa con i bimbi ricoverati all'ospedale civile di Pescara. Questa iniziativa è stata curata, come sempre, dall'adricesta di Carla Panzino. Allora andiamo a vedere il servizio di questa importante iniziativa. Anche quest'anno è tornato l'appuntamento più atteso dai bambini all'ospedale Santo Spirito di Pescara, il Babbo Natale Carabiniere. L'evento, giunto alla sedicesima edizione, ha visto in prima linea all'adricesta Olus i carabinieri del comando provinciale per regalare donne e sorrisi ai piccoli degenti dell'ospedale cittadino. C'è un nostro carabiniere vestito da Babbo Natale che distribuisce dei doni ai bambini in questo reparto dell'ospedale dove ci sono bambini appunto che soffrono e che sono in condizioni di non poter passare Natale e le feste in casa con i loro genitori e i familiari. Per cui per noi è un momento di grande intensità emotiva. Noi abbiamo portato la musicoterapia anche nelle parti pediatrici anche in geriatria e ci piacerebbe continuare a farlo perché ecco i bambini stanno molto meglio quando e anche i loro genitori quando possono trascorrere delle ore con i ragazzi facendo un po' di musica e cantando e questo li distoglie forse anche dalla loro malattia e soprattutto tranquillizza i genitori. E' una tradizione ormai che i carabinieri a Dricesta vogliono dare e regalare all'ospedale di Pescara ma soprattutto ai piccoli bambini ai piccoli ricoverati sia in ambito chirurgico che pediatrico che oncologico serve a farli sentire meno soli ne siamo contenti. Parliamo ancora di iniziative di Natale di solidarietà sul trabocco si raccolgono doni la società di salvamento invita i bimbi a portare cibi per i meno fortunati andiamo ancora avanti restiamo a Pescara via Roma i bimbi decorano gli alberi tra canti e letture festa del Natale in strada con gli alunni dell'istituto 4 del comprensivo 4 di Pescara proseguiamo siamo alla pagina di Montesilvano perché la polizia municipale di Montesilvano è in lutto per la scomparsa prematura del maresciallo Sergio D'Alonso a cui è stato purtroppo fatale un infarto oggi ci sarà la camera ardente è stata eseguita l'autopsia sul 55enne morto dopo il ballo a Silvi domani mattina alle 10 verrà celebrato il funerale nella chiesa di Sant'Antonio restiamo a Montesilvano pranzo di Natale vedete il titolo di spalla e doni alle famiglie in difficoltà grazie all'iniziativa dell'associazione Missione Possibile andiamo avanti siamo a Città Sant'Angelo impianto di cremazione pronto entro un anno il comune ha affidato l'appalto ad una ditta bolognese la struttura sarà realizzata accanto al cimitero e creerà posti di lavoro Montesilvano gara della solidarietà 18 i premiati e poi restando sempre nella città adriatica murale con i pesci per i bimbi della primaria street art a Montesilvano l'opera dell'artista Pancioni inaugurata sulla parete della Berardinucci siamo a Francavilla al mare autovelox per stoppare gli incidenti nella galleria San Silvestro della variante dopo l'ennesimo schianto a San Silvestro si studiano contromisure comandate della polizia stradale automobilisti spesso troppo distratti e oggi a Francavilla ci saranno i funerali della titolare della lavanderia del foro Liviana Coccia che aveva 55 anni vediamo altre notizie dall'area dell'Interland di Pescara San Giovanni Teatino salute nascono i gruppi di cammino mentre a Pianella ci sarà una cerimonia dedicata al giurista speziale andiamo a vedere anche la pagina che riguarda la Val Pescara e l'area Vestina Brioni ritorna a Milano ma è gelo con i sindacati la collezione autunno-inverno 2019-2020 in Passerella il prossimo 12 gennaio ancora penne disponibile un posto da agente di Polizia Municipale ci spostiamo a Manoppello viabilità i cittadini chiedono di finire subito i lavori vediamo anche un altro titolo che arriva sempre da penne inaugurato una nuova area di sosta per camper e caravan siamo a Chieti fu trovato con l'ascis escluso dal concorso il Tar respinge il ricorso di un 23enne segnalato a 16 anni al prefetto i giudici le fiamme gialle contrastano lo spaccio e poi la cronaca giudiziaria maltratta il padre per la droga 44enne finisce a processo e poi le notizie che riguardano l'azienda di San Martino sulla Marocina e la Bol due aziende pronte a rilevare il sito industriale le ditte decise a collaborare per rioccupare tutti i lavoratori questa sera ci sarà un vertice probabilmente decisivo a Roma siamo a San Salvo pestaggio in centro aggredito con un bastone e pugni è in coma e dall'ospedale di Vasto è stato trasferito nella notte all'ospedale civile di Pescara siamo a Vasto scarcerato dal riesame Vasto e San Salvo operazione Evelyn il tribunale accoglie uno dei venti ricorsi e poi ancora San Salvo esplode Micetta professore ferito ad un occhio siamo alla pagina di Teramo del centro si parla dei progetti dell'Università Teramana Mastrocola annuncia tre nuovi corsi di laurea l'Ateneo vuole essere sempre più vicino alla città e al tempo stesso all'Europa vediamo anche in basso sempre a Teramo la Pinacoteca Civica riapre dopo due anni torna nella collezione dopo una lunga disputa sulla proprietà il politico Giacomo da Campli vediamo anche la prossima pagina parliamo di sanità chirurgia vascolare annullato il concorso dopo l'inchiesta della procura la commissione esaminatrice rinuncia a fare una nuova valutazione della casistica operatoria vediamo poi in basso Giulianova la cronaca coltellata a scuola al via il processo al diciottenne e poi in basso parliamo invece di turismo l'assessore regionale turismo di ignazio raccontiamo meglio l'abruzzo stati generali del turismo in cui l'assessore ha illustrato le strategie della regione abruzzo per promuovere il nostro territorio siamo alla pagina della provincia di teramo silvi nessuna nuova rotonda nel tratto urbano della strada stata alle 16 il comune scarta l'ipotesi di realizzarle al bivio di sant'antonio vediamo poi a centro pagina da silvi siamo ad atri è stata un'aggressione violentissima atri parla davanti al giudice la donna picchiata insieme al nuovo compagno dall'ex marito e poi in basso ancora silvi eternit nell'ex pollaio il consigliere comunale Partipilo accusa la maggioranza per la mozione rigettata in consiglio comunale siamo all'aquila il progetto data center la teleni annuncia 120 assunzioni l'azienda vuole insediarsi in parte dell'area dell'ex edimo di Poggio Picenze vediamo poi di vedere gli articoli a centro pagina resto a sud sostegni per i giovani under 36 domani gli esperti di Invitalia illustreranno l'incentivo economico e poi la cronaca investito lungo la statale 17 giovane si frattura una gamba siamo ad assergi usi civici assergi e polemica sul Gran Sasso per i collegamenti tra Fossia di Paganica Scinderella e Monte Cristo proseguiamo discariche l'emergenza ad Aielli 40.000 tonnellate di rifiuti della capitale in Abruzzo tra la Marsica e Chietini arriveranno complessivamente 70.000 la decisione assunta in un incontro alla regione sul Mona fuori dall'accordo e poi sabato apre la mostra per i cento anni dell'Avezzano Calcio la fondazione della società Bianco Verde il promotore dell'iniziativa è Fiasca in tanti ci sono mobilitati per reperire i cimeli della società Bianco Verde appunto l'Avezzano Calcio l'Avezzano nato nel 1919 dunque auguri all'Avezzano Calcio per i suoi cento anni vediamo invece restiamo in Marsica ma tornando alla cronaca tre furti in abitazione tra Celano e Luco De Marsi i ladri colpiscono di giorno in una casa al terzo piano aperta la cassaforte a muro ipotesi di una banda in trasferta siamo arrivati alle pagine dello sport del centro allora possiamo fermarci per qualche istante andare a vedere anche le previsioni del tempo per le prossime ore poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 andremo a vedere le pagine del messaggero del quotidiano la città di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 siamo le pagine interne dell'inserto Abruzzo del quotidiano il messaggero pagina 2 torniamo a parlare della conferenza di ieri tenuta presso la sede della CIS regionale Abruzzo di Pescara la crisi infinita gelata di fine anno drammatico calo dei posti di lavoro economista Pino Mauro che abbiamo ascoltato prima peggio della media nazionale e poi Movimento 5 Stelle delle elezioni tutto in poche ore rinvio non va bene il 10 febbraio ma ci sarà tempo fino al 24 di dicembre per eventualmente spostare la data proprio delle regionali clochard l'imbarazzo del comune scalpore per la foto dei senza tetto sotto la pioggia algero allegrino dobbiamo risolvere prima che ci scappi il morto e poi Valentinetti duro che paura può farci chi dorme in strada queste le parole dell'arcivescovo della diocesi Pescara Penne tra l'altro proprio in questi giorni si stanno registrando le temperature più basse in questo inizio d'inverno inverno che partirà proprio nella giornata inizierà ufficialmente dopo domani J-AX braccio di ferro sul trenino le installazioni di piazza Salotto intralciano le vie di fuga il concerto di Capodanno lo dicevamo prima potrebbe essere trasferito nelle aree di risulta notte dei musei sotto accusa la spesa di 25 mila euro il consigliere comunale Capogruppo di Forza Italia Antonelli dice solleverò il caso in commissione di vigilanza di Acovo Ribatte scelta di governo i doni dei carabinieri per i bevi pazienti sorrisi in corsia abbiamo visto anche in questo caso il servizio è una nuova casa invece per i cani poliziotto i cinofili della polizia di stato verranno ospitati nella nuova sede di Montesilvano tecnico di Cappella è morto in alto mare malore fatale sulla piattaforma offshore Eleonora Dell'Eni per Vitangelo Stellato trovato senza vita sulla porta del bagno inutili soccorsi con l'elicottero del 118 infarto oggi funerali del maresciallo Sergio D'Alonso ci sarà un picchetto d'onore alla cerimonia che si tratterà nella chiesa di Sant'Antonio e la commozione dei colleghi di fronte alla scrivania vuota lasciata proprio dal maresciallo D'Alonso Ponteflaiano e Grattacieli per Giorgia che canta vasco suggestive immagini notturne della città di Pescara nel video che accompagna l'esecuzione di vivere una favola della cantautrice romana siamo appena salta l'accordo per l'abrione preoccupazioni preabrioni scusate preoccupazione dei sindacati e poi recupero dal coma a popoli donazione di due carrozzine andiamo a vedere la pagina dell'Aquila restituzione tasse post sisma verso una proroga di un anno il consiglio comunale dell'Aquila ha infatti approvato un documento che impegna il sindaco ad intervenire sul governo il nodo resta sempre lo stesso convincere l'Unione Europea che le agevolazioni non rappresentino aiuti di Stato allora andiamo a vedere il servizio proprio su questa decisione del consiglio comunale questo documento approvato in consiglio comunale all'Aquila vediamo il 31 dicembre prossimo scadrà la proroga per la restituzione delle tasse sospese dopo il sisma del 2009 e anche se dal governo nazionale rassicurano su un'altra proroga che ci sarà il consiglio comunale dell'Aquila ha ritenuto opportuno accogliere dopo qualche mese la proposta avanzata dal partito democratico per un assisi ad hoc dalla quale è uscito un ordine del giorno che chiede sostanzialmente una proroga al 31 dicembre ma del 2019 per avviare un'interlocuzione fissa e seria con l'Europa e per portare il de minimis a 500 mila euro non potevano essere considerati dicono tutti aiuti di Stato chiediamo l'apertura di un tavolo fra le autorità italiane e le autorità europee per stabilire le regole di ingaggio che sottintendono alla decisione finale del 14 agosto 2015 in cui ci è stato detto che la legge che consentiva l'abbattimento al 60% delle tasse con la restituzione in 10 anni per le aziende che non dimostrassero il nesso di causalità fra il danno subito e l'agevolazione percepita sono non legittime Al Consiglio Comunale hanno partecipato anche sindacati associazioni di categoria la questione riguarda circa 300 imprese di L'Aquila e Cratere alcune hanno già chiuso altre lo faranno se non sarà preso un provvedimento dicono i rappresentanti delle associazioni e sindacati al di fuori nelle voci di corridoio tutti ci danno certa questa proroga i giorni ormai ne mancano pochi ci aspettiamo da questi incontri delle risposte certe sull'emendamento che dovrebbe essere pronto in Senato per la proroga e quindi dare se non altro un altro periodo un altro anno di lavoro perché le nostre carte i nostri danni sicuramente li abbiamo ormai dopo 10 anni li continuiamo a perpetuare a riproporre a tenere pronti ma la realtà è che oltre questo sicuramente una risposta certa alla proroga che diamo assolutamente per scontato non voglio neanche pensare al contrario è una condizione necessaria ma non sufficiente a risolvere il problema perché da subito bisogna che il governo attivi un confronto con l'Europa perché per chiudere questa vicenda dobbiamo ottenere l'innalzamento del famoso de minimis a 500 mila euro altrimenti le conseguenze per l'economia e per il territorio sarebbero davvero molto pesanti andiamo avanti restiamo sempre all'Aquila Palazzo Emiciclo biblioteca intitolata a Giuseppe Bolino la cerimonia per il politico professore uomo di cultura sulmonese scomparso nel 1984 vedete poi in basso ritroviamo anche sul messaggero la notizia che riguarda il data sensor di Telenia obiettivo 150 assunzioni e poi contributi lavori del terremoto assolto un odonto tecnico andiamo a vedere la prossima pagina sempre che riguarda l'Aquila una vittoria importante per l'Appennino positivo il bilancio della tre giorni di sessione invernale del festival della montagna che ha animato il parco del castello e poi scuola di cinema Pietrucci si può salvare dice il consigliere regionale dal rischio chiusura e poi evento a Villa Sant'Angelo riunione tra Cecchini e Bafile e poi ancora quando per sostenere la causa dell'Isef gli studenti sequestrarono Chinaglia c'è questo articolo questo ricordo di Dante Capaldi e poi il cardinale dell'Aquila Giuseppe Petrocchi oggi sarà in ospedale San Salvatore per gli auguri ai degenti andiamo avanti ci spostiamo alla pagina che riguarda Avezzano e Sulmona dunque Marsica e Valle Peligna sci dopo 18 anni riapre Campo Rotondo la presentazione ufficiale ieri al comune di Tagliacozzo con Giovagnorio e Lorenzin e la località più vicina a Roma tanti romani che dunque torneranno a sciare nella proprio nella zona di Campo Rotondo sopra Tagliacozzo andiamo a vedere poi di spalla Sulmona scopre malattia si toglie la vita mettendosi fuoco e poi la storia che arriva da Vallepietra una vezzanese denunciò i vandalismi alla stazione di Pizzalto disco verde alla stagione dunque si scierà quest'anno come nelle stagioni precedenti anche a Pizzalto dunque nell'Alto Sangro Sulmona Lombardo Radice scuola da abbattere la giunta ha chiesto al Ministero di utilizzare i fondi per farne una nuova e poi ad Avezzano botte da orbe al bar locale distrutto vediamo la pagina che riguarda chieti sesso coca e coltello verso il processo il dentista esposito e poi niente rifiuti di Roma a Casoni lite marzoli di primio sull'emergenza gruppi di cammino San Giovanni la svolta salutista del sindaco di San Giovanni Teatino Marinucci in basso opere della collezione Paglione per il museo dell'università e poi gli attori alla d'annunzio in cattedra per incontrare gli studenti lo vedete nella foto Ficarra e Picone incontrano gli studenti oggi l'appuntamento in Aula Magna nozze al castello Rocca Scalegna vola affitto a 100 dollari per i matrimoni boom di richieste da Mezzomondo dopo la notizia diffusa dalla CNN Travel per Ecolan un anno d'oro è differenziata da record a Lanciano mentre nel Vastese a Lentella morto nel rogo di casa assegnata l'autopsia San Salvo aggredito il padre di una consigliera comunale grave in ospedale e poi gli auguri di Natale del sindaco Pupillo alla cena degli amici del messaggero proseguiamo pagina di Teramo sempre dalle pagine dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano università tre nuovi corsi e una visione internazionale il rettore Mastrocola illustra le offerte di diritto scienze animali e dello spettacolo ristrutturazione dell'ex manicomio i lavori prenderanno il via entro il 2019 cattedrale dopo Natale il restauro del campanile e poi ancora autostrada chiuso il traforo del Gran Sasso botte alla ex al compagno l'imputato si scusa in aula e poi incendio nei laboratori ma è una esercitazione vediamo la prossima pagina la libertà e riabbracciare mia figlia e il regalo di Natale che Denis Cavatassi vuole fare la sua piccola Asia che lo attende a casa con mamma nonni e zii dopo anni di dura detenzione in Thailandia tutta a Tortoreto lo aspetta per fare festa con la gioia nel cuore dice il sindaco vediamo poi altre notizie anestesisti e chirurgo in più ora c'è anche un primario l'ospedale di Giulianova è sempre Giulianova rivolta dai commercianti per la luce lavoro in piazza e disagi opposizione all'attacco ad Alba Adriatica ad Alba Adriatica ci spostiamo a Silvi vedete a fondo pagina furti cittadini in assemblea e poi Roseto si lancia sotto le auto e truffa infine Colonia Spiaggia trova in un portafoglio 7 mila euro e li restituisce lasciamo le pagine dell'inserto abruzzo del messaggero andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano la città ormai è ufficiale si vota il 10 febbraio in Parlamento balletto del Movimento 5 Stelle presentato un emendamento per spostare le elezioni emendamento poi ritirato Legnini ufficializza la discesa in campo ci sarà questo incontro ne parlavamo prima sabato a Pescara e poi i dati CIS l'economia in difficoltà persi 26 mila posti di lavoro abbiamo visto anche il servizio Teramo tre nuovi corsi per l'Università Teramara il Rettore Mastrocola prepara la svolta dipartimenti al posto delle facoltà e sempre più lingua inglese salvo il progetto della Casa dello Studente ex Rettorato accreditati 3 milioni di euro necessari per sbloccare l'iter dopo due anni riapre la Pinacoteca Civica chiusa dopo il terremoto venerdì verrà restituita la città con i nuovi pezzi e una nuova organizzazione vediamo la prossima pagina siamo a Teramo la ricostruzione rischia lo stallo i costruttori anci chiedono alla regione di evitare la vacazio alla direzione dell'USR vediamo poi in basso 7 milioni sotto l'albero di tecnici e imprese entro venerdì verranno saldati gli importi attesi da oltre due anni andiamo a vedere la prossima pagina Montepulciano fantastico cinquantenne il vino abruzzese si interroga sul futuro del brand e la necessità di trovare un legame più forte con il territorio il vescovo di Teramo Leuzzi benedice l'acqua del ruzzo Monsignore Leuzzi ieri nella sede di Via Dati per incontrare vertici e dipendenti dell'acquedotto romano intanto a Teramo il comune ha ricordato Anna Ferrante vediamo la prossima pagina del quotidiano la città restiamo sempre nel capoluogo aprutino il coro della Savini canta dietro il gazebo mille alunni augurano buon Natale alla città sistemandosi attorno alla struttura che doveva essere spostata vediamo poi in basso studenti Teramani in gita a Matera capitale europea della cultura per il 2019 potenzialità inespresse nel turismo abruzzese la lucida analisi del presidente vicario della regione Lolli abbiamo tutto ciò che i turisti cercano ma il 70% sceglie il mare Teramano vediamo di andare avanti ci spostiamo la pagina della provincia di Teramo con le dara si conferma comune verde Teramano pronti il nuovo museo delle arti contadine gli orti didattici e le iniziative di orticoltura sostenibile viabilità traforo chiuso in direzione l'Aquila nella notte tra giovedì e venerdì per verifiche tecniche in basso escursioni di Natale sulla nave grazie alle guide del Gran Sasso nel calendario di Natura e Salute anche due eventi speciali tra cui la rilettura teatrale di un racconto di Henry De Luca siamo alla pagina della Val Vibrata la notizia principale riguarda ovviamente il ritorno a Tortoreto di Denis Cavatassi rientro atteso prima di Natale con la festa che verrà organizzata proprio per il rientro in città del nostro corregionale da Tortoreto ci spostiamo ad Alba Adriatica città viva lavori in piazza 4 novembre inutili e dispendiosi dice città viva Civitella del Tronto corsa della speranza tra le bellezze della Vibrata il festival dei due parchi presenta la terza edizione della manifestazione San Giacomo fioccano le proteste per la strada ancora chiusa gli sciatori costretti ad un giro lunghissimo per raggiungere la località di Monte Piselli nuovo sciopero all'engineering di Mosciano i dipendenti manifestano contro il mancato rinnovo del contratto integrativo intanto verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'operaio morto sulla piattaforma Eni a largo di Giulianova sempre a Giulianova polemica politica sulle interruzioni elettriche Enel e poi comune riciclone ma la Tari resta ancora molto alta nessuna premialità per chi conferisce gli incombranti nell'eco centro comunale andiamo a vedere la pagina di Roseto del quotidiano la città ripartono i lavori alla villa comunale i tecnici depositano la seconda e ultima perizia di variante al progetto fermo ormai da troppo tempo Movimento 5 Stelle siamo ad Atri di Luzio in consiglio al posto di Concetti durante l'assise civica si è discusso anche del terminale degli autobus tua nella cittadina Ducale siamo a Silvi bomba ecologica due passi dal cimitero Partipilo presenta una mozione sull'ex pollaio ma la maggioranza la rinvia sempre a Silvi amministrazione al lavoro per realizzare le rotonde sulla strada statale 16 ancora Silvi assemblea pubblica dei 5 Stelle sulla sicurezza anche i grillini attaccano l'amministrazione comunale aspettiamo ancora atti concreti dicono i pentastellati cultura missa in memoria di Impulletti anche Paolo Fresu al comunale di Teramo per il concerto dedicato al musicista e siamo arrivati alle pagine dello sport e nell'ultima parte di mattino 6 partiamo dalle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali Gazzetta dello Sport né Milan né Pipita vedete in alto 0 a 0 ieri nel posticipo di campionato tra Bologna e Milan Milan che resta al quarto posto Bologna che salva la panchina di Inzaghi e Icardi diventa Cine Panettone Inter un caos di nome Vanda polemiche per il rinnovo del contratto dell'attaccante e poi Manchester United via Murigno non più special Pogba se la ride non era un mistero che i due non andassero molto d'accordo Corriere dello Sport vince solo Pippo Bologna Inzaghi ferma un brutto Milan e salva la sua panchina finisce 0 a 0 Roma faccio il tuo bene a Boston parla il presidente Pallotta e poi House of Icards intrighi mezze verità bugie imbarazzi il rinnovo del contratto tra l'Inter e Icardi diventa un caso infine tutto sport Juve Delight c'è l'incontro e poi via Mo intrigo Pogba in alto Bologna e Milan non si fanno male andiamo a vedere le pagine dello Sport regionale partiamo dal centro il posticipo della Serie A lo vedete nella prima pagina Bologna Milan 0 a 0 Milan che resta al quarto posto a lunga di un punto sulla Lazio Milan 27 quarto Lazio al quinto posto con 25 il Bologna sale a 12 punti ma resta al terz'ultimo posto parliamo anche di Serie B a livello nazionale perché il presidente della FIGC gravina gela tutti la B dice resterà a 22 squadre il presidente della FIGC respinge la proposta della Lega Pro che voleva la Serie Cadetta a 20 squadre dunque dal prossimo anno la Serie B tornerà a 22 e intanto futuro Real però Special One litiga e non vince via Morigno il Manchester United licenzia il tecnico ai ferri corti con tutto l'ambiente siamo alla pagina che riguarda il Pescara Pescara che soffre di mal di trasferta il 2018 è stato da incubo solo tre gare vinte dai Biancazzurri nell'anno solare che sta per chiudersi e Sebastiani avverte Pilon serve un piano B il presidente Biancazzurro tuona gli avversari ci studiano durante le gare bisogna cambiare a centrocampo voglio più ordine e intanto sabato la sosta lo dicevamo prima Pescara non giocherà perché osserverà un turno di sosta recupera intanto Fiorillo in vista della gara con il Venezia che si giocherà lo vedete in quest'altro piccolo risvolto il giovedì giovedì 27 dicembre Venezia allenato da Zenga la gara inizierà alle 19 intanto l'amichevole della primavera oggi scenderà in campo alle 14 e 30 con il Francavilla parliamo ancora del Pescara perché ci sono alcune polemiche degli abbonati che reclamano per aver pagato l'abbonamento per tre gare in più alcuni fidelizzati non ci stanno con il nuovo format ci sono meno partite il club risponde pronti ad intervenire e vedete poi lo sport durante le feste sugli spalti in tv una buffata di calcio nelle prossime giornate ovviamente anche la nostra rete seguirà tutti gli appuntamenti calcistici fino al termine dell'anno perché seguiremo le gare di serie D nel weekend con le tradizionali trasmissioni di diretta stadio l'Abruzzo del pallone seguiremo come sempre abbiamo fatto il Pescara anche il 27 di dicembre nella gara casalinga con il Venezia seguiremo anche il Teramo impegnato nel prossimo weekend al Bonolis e a proposito di Teramo l'attacco è sotto esame le grandi manovre le tre partite di fine 2018 serviranno a determinare le valutazioni delle punte in vista del mercato ieri Teramo che ha festeggiato il Natale c'è stata la cena sociale del Teramo Calcio oggi nel corso del nostro DG vedremo anche un servizio parliamo poi di basket basket di serie A2 Pieric un guerriero nella difesa di Roseto Pieric dice ora però serve il colpo e poi volley la Virtus Orsonia capolista in battuta la squadra di Darielli si gode le festività al primo posto in B2 dopo il successo nel derby di Chieti basket di serie B le sfide del weekend Giulianova decimato Maciocca spera di riavere Angelucci Ruscitti suona la carica all'Adriatica Press tutti sotto esame Giulianova che giocherà con l'amatori Pescara invece per il Teramo ci sarà l'appuntamento con il Chieti e Gialloreto dice serve continuità mercato della teata e spunta Pierini vediamo lo sport del messaggero Pillon Sebastiani vuole il piano B lo abbiamo visto prima Delfino Delfino in panne sono davvero troppi gol subiti calcio a 5 in basso Acqua e Sapone Corsaro Arieti vince nel finale 5 a 3 la formazione abruzzese calcio a 5 diavolo di un caidi è vero ho gufato quando il Cese ha sbagliato il rigore ho pensato fosse giusto così spiega il difensore Biancorosso basket Sharks punti raddoppiati rispetto ad un anno fa e poi calcio di serie D Sanchez ciao Francavilla Nereto rivoluziona tutto e intanto all'Aquila c'è il debutto di Zanon con i rosso-blu Zanon ex giocatore del Pescara si appresta a chiudere la carriera all'Aquila e dice era il mio desiderio noi chiudiamo invece l'appuntamento di oggi con la pagina dello sport del quotidiano la città battaglia federale in serie C otto retrocessioni serie A e B contro la proposta della Lega Pro Gravina se non cambia nulla la B torna a 22 squadre basket in carrozzina Amicacci Giulianova da battaglia ma cede con Cantù terza sconfitta per i giallorossi che sabato chiuderanno il girone d'andata in trasferta a Varese spazio del centro sportivo italiano il club Roseto dilaga e si avvicina alla capolista calcio a 7 nel girone A gli adriatici battono 16 a 2 l'acros team e si portano a meno 4 dal Mojito e noi siamo giunti davvero al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito e vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.